Ciao ragazzi, in questo video approfondiamo un po' il legame fra il campo elettrico e la variazione del potenziale elettrico e cosa che avevamo già un pochino discusso in passato ma lo riprendiamo e lo generalizziamo e questo ci porterà a parlare di un'altra cosa che a questa è strettamente legata che sono le cosiddette superficie più potenziali che sono qualcosa che probabilmente non avete mai sentito ma che magari con qualche analogia potrebbero esservi comunque un pochino familiari o potreste aver visto qualcosa di abbastanza simile in altri contesti prima cosa volevo ricordare quello che avevamo già osservato avevamo già osservato in alcuni esempi, in particolare quello di una carica puntiforme che genera un campo quindi qui per esempio una carica puntiforme positiva quindi il campo ha direzione radiale verso uscente avevamo già osservato che conoscendo il potenziale ovviamente il potenziale di una carica puntiforme è KQ su R questo potenziale diminuisce se la carica positiva decresce allontanandosi dalla carica e avevamo notato proprio che se io mi trovo in un certo punto e voglio andare nella direzione verso di in cui il potenziale diminuisce più rapidamente devo proprio allontanarmi radialmente dalla carica e cioè seguire proprio la direzione del campo elettrico la stessa cosa avevamo visto succede per un campo succede anche per la carica negativa al contrario perché il potenziale diminuisce avvicinandosi alla carica questa volta decresce avvicinandosi alla carica e infatti il campo elettrico indica proprio quella direzione e quel verso e infine avevamo fatto anche l'esempio della stazione di un campo elettrico costante cioè uniforme meglio dire quello che si trova tra le due piastre per esempio uniformemente cariche e in questo caso c'è un campo elettrico uniforme diretto dalla piastra positiva alla piastra negativa abbiamo notato che se vogliamo andare alla diminuzione del potenziale più rapidamente possibile dobbiamo proprio andare nella direzione verso del campo elettrico perché avevamo ricavato che il potenziale in questo caso mettendo un asse y fatto così il potenziale dipendeva proprio solamente dall'altezza y diciamo così e era dato da questa espressione qua e quindi aumenta andando la piastra negativa a quella positiva viceversa diminuisce da quella positiva a quella negativa cioè diminuisce proprio se vogliamo andare nella più rapida diminuzione del potenziale dobbiamo muoverci concordemente nella stessa direzione del campo elettrico avevamo anche detto che questo fatto potremmo anche esprimere dicendo che se mettiamo una carica di prova positiva all'interno di questa regione ferma inizialmente questa è una cosa fondamentale se no quello che sto per dire non è vero ma se inizialmente ferma tende a muoversi proprio nella direzione verso della forza che su di essa agisce siccome la carica è positiva la direzione verso sono proprio quelli del campo elettrico quindi in altre parole una carica positiva messa in una regione dove è presente un campo elettrico tende a muoversi proprio verso la direzione verso della diminuzione del potenziale perché questa è quella che viene indicata dal campo elettrico quindi una particella carica positivamente tende spontaneamente a muoversi verso punti dove il potenziale è minore il contrario succede però se la particella carica di prova fosse negativa e quindi si muoverebbe tendenzialmente verso punti a potenziale maggiore ora questa cosa qui volevo prima di questo è quello che avevamo già visto l'ho ripassato ora vogliamo diciamo formulare questa cosa in maniera leggermente più generale vedere come mai è vero in generale non solo in questi casi particolari che ci è capitato di analizzare volevo però prima farvi entrare una cosa che siccome è molto interessante su cui magari non avevate riflettuto in passato qui stiamo parlando di potenziale adesso ma non c'è molta differenza come abbiamo detto tra potenziale e energia potenziale quindi la carica di diciamo considerando la nostra carica di prova positiva dire che si muove verso direzione dove c'è una diminuzione di potenziale è come dire si muove verso punti in cui ha energia potenziale minore quindi che cosa ci può ricordare questo? cosa ci può fare in mente? beh se ci ricordiamo cosa succede con una particella in un potenziale gravitazionale quindi per esempio all'interno di una regione in cui c'è la forza peso è una particella naturalmente tendenzialmente cerca di andare verso il suolo se è inizialmente ferma ovvio che se la tiriamo verso l'alto per un po' andrà verso l'alto ma comunque frena e poi tende ad andare verso il suolo e dal punto di vista energetico possiamo interpretare questo come il fatto che la particella tende a muoversi verso cerca di andare verso le posizioni dove l'energia potenziale è minore infatti verso il basso l'energia potenziale mgh cresce con la quota e quindi decresce andando verso il suolo per cui un oggetto in un campo diciamo quando è soggetto alla forza peso tende a muoversi e cercando di assumere la minore energia potenziale possibile tant'è che se noi la mettiamo speriamo di mettere una particella dentro una tazza se noi la mettiamo in basso qui ferma cioè nel punto dove già la minima energia è possibile questa è una posizione di equilibrio stabile rimarrà lì ferma perché comunque non non può andare in punti dove l'energia è ancora minore che di così e stessa cosa potremmo dire in un'altra situazione familiare c'è un oggetto un oscillatore armonico un oggetto attaccato a una molla quindi se voi lo spostate dalla posizione di riposo dove l'energia è zero andiamo in un punto dove l'energia è maggiore e in questo punto se noi lasciamo l'oggetto inizialmente fermo cosa tende a fare? beh tende a spostarsi verso la posizione di energia zero e cioè tende a diminuire la propria energia potenziale se noi lo mettiamo direttamente nella posizione di energia potenziale minima non si sposterà da lì quindi rimane in equilibrio e quindi questo era diciamo un piccolo approfondimento per guardare le cose da un punto di vista leggermente più più ampio per ampliare un pochino il nostro campo visivo e cercare di vedere come tante le cose che stiamo dicendo si applicano naturalmente anche a diversi contesti quindi tornando al nostro campo elettrico o campo elettrostatico meglio al nostro potenziale vorremmo cercare di dire un pochino più in generale questa cosa qui se noi abbiamo diciamo una situazione generica campo elettrico generico in una certa insomma c'è una certa regione dello spazio in cui magari ci sono delle cariche non sappiamo come ma hanno generato questo campo elettrostatico e quindi ci troviamo in questo punto dove c'è questo certo campo elettrico supponiamo che in questo punto il campo elettrico che sia così vogliamo chiederci cosa succede se ci spostiamo da questo punto in una certa direzione vogliamo sapere come cambia il potenziale e in particolare quali saranno in quali direzioni ci possiamo muovere che renderanno maggiore o minore la variazione di potenziale cioè in poche parole se mi sposto qui un po' con l'analogia che avevamo fatto con la temperatura se sono in un punto voglio provare a spostarmi in le varie direzioni e vedere come cambia la temperatura se mi sposto verso i punti dove fa più caldo o mi sposto verso i punti dove fa più freddo naturalmente per fare questo mi basta fare un piccolo spostamento immagini di fare un spostamento infinitesimale e di provare a farlo però in tutte le possibili direzioni per vedere come si confrontano appena mi sposto io potrei subito percepire se la temperatura sta aumentando o sta diminuendo e allo stesso modo potrei vedere se con un spostamento infinitesimale il potenziale sta aumentando o sta diminuendo ne provate a immaginare provate a rispondere delle varie possibili direzioni se non l'ho fatto esattamente bene questo disegno ma volevo considerare diciamo spostamenti tutti lunghi i quali diciamo di tutti gli spostamenti possibili in tutte le possibili direzioni quali sono quelle che causeranno una maggiore variazione di potenziale per ricordarci questo dobbiamo ricordarci una cosa che abbiamo visto ricordato nell'altro video cioè legame fra il campo elettrico e la variazione potenziale che è espressa da questa relazione naturalmente se il percorso fosse abbastanza lungo da avere un campo elettrico che cambia e quindi diventa non uniforme io dovrei usare come vi ricordate una sommatoria o meglio un integrale per esprimere la variazione di potenziale però supponendo che il percorso sia sufficientemente piccolo da poter considerare campo uniforme possiamo usare solamente uno di questi termini un contributo immaginando che questo è su questo piccolo spostamento comunque non cambi quindi osservando questa relazione cosa possiamo vedere beh delta v sarà massimo quando è che delta v sarà più grande possibile in valore assoluto immaginate a parità di e che è costante a parità di delta r che immagino di fare in tutte le direzioni lo stesso delta r beh naturalmente a seconda di come è il coseno avrò una diversa variazione quindi questa variazione delta v sarà tanto più grande quanto più grande è il coseno e quindi diciamo il coseno i valori massimi in valore assoluto possono essere più o meno uno che si hanno quando teta è zero o 180 gradi ok quindi quando teta è zero avrò un il coseno sarà uno quindi questa quantità sarà positiva e quindi delta v sarà negativo e massimo in valore assoluto d'accordo quindi più negativo possibile quando siamo a 180 gradi invece è meno uno e quindi delta v è massimo ma positivo e più grande possibile ancora quindi che cosa significa delta v negativo e massimo devo dire che in questo caso c'è la diciamo scrivo così tra virgolette per sintetizzare con massimo intendo massimo in valore assoluto quindi la massima variazione di delta v in valore assoluto ma con una variazione negativa quindi una diminuzione di delta v si ha quando delta r e sono paralleli quindi questo ok quindi e parallelo delta r significa massima decrescita di v invece antiparallelo quindi diciamo e se volete parallelo diciamo meno delta r scriviamo così c'è una massima crescita e questa sarebbe questa situazione quando mi muovo in verso opposto rispetto a e ma quindi beh questa è esattamente la cosa che avevamo trovato prima cioè se mi muovo cioè che e indica proprio la direzione in cui mi devo muovere se voglio avere una massima decrescita del potenziale questo è vero quindi in qualsiasi situazione non solo negli esempi semplici che abbiamo fatto e quindi per esempio potremmo guardare un dipolo no quindi qua che cosa significa la cosa che abbiamo fatto e beh se noi abbiamo per esempio qua lo trovo in questo punto per esempio un altro colore lo trovo magari in questo punto qui so che il campo elettrico è tangente alla linea di campo quindi questo è il campo elettrico e quindi questa è proprio la direzione in cui mi devo muovere se io voglio andare nella nel verso di massima diminuzione potenziale se mi trovo qui questa linea di campo mi dice che devo muovermi in quella direzione in quel verso per avere la massima diminuzione potenziale e così via in buona sostanza devo seguire se vedete le linee di campo per poter andare sempre nella direzione nel verso in cui c'è una più rapida diminuzione potenziale quindi se voglio andare dove diminuisce il potenziale io devo seguire la linea di campo in buona sostanza che equivale a seguire il vettore campo in ogni punto in cui mi trovo una cosa che quindi ci ci permette di collegare questo alla cosa successiva che vogliamo vedere è la seguente quindi potrei chiedermi viceversa in quali direzioni potrei muovermi per invece avere la minima variazione di delta v oppure anche nessuna variazione di delta v e beh se se osservate beh questo quando succede beh succederà quando il coseno è uguale a 0 coseno uguale a 0 significa che i due vettori e e delta r sono perpendicolari e quindi diciamo questa potrebbe essere una direzione e questa potrebbe essere una direzione quando sono perpendicolari cioè quando mi sposto così o così il campo elettrico non varia ma questo cosa significa beh se io mi trovo per esempio di nuovo mi trovo in questo punto di qui tangente a linea di campo è la direzione di massima diminuzione di qui è la direzione di massimo aumento e perpendicolare a queste mi muovo a sinistra o a destra perpendicolarmente al campo e vado in una direzione in un verso che non fa cambiare il campo il potenziale vedete che se io per esempio mi trovo qui questa direzione di massima diminuzione e mi devo muovere così ok lungo questa curvetta qua vedete in ogni punto questa direzione il campo questa direzione perpendicolare vedete che questa linea sembra indicare proprio questa direzione la direzione perpendicolare a campo e abbiamo capito è anche la direzione in cui mi devo spostare se io voglio fare in modo che il potenziale non cambi quindi questo ci permette di avere già un'idea della prossima cosa che definisco adesso ritorno al discorso che stiamo facendo dopo aver definito che cos'è una superficie qui potenziale superficie più potenziale si può definire anche per naturalmente per esempio il campo gravitazionale e sono una superficie più potenziale definita come l'insieme di punti dello spazio se volete il luogo dei punti dello spazio in cui il potenziale assume lo stesso valore e quindi lungo una superficie se rimango su una superficie più potenziale significa che rimarrò sempre in punti in cui se guardo quanto vale il potenziale troverò avrà sempre lo stesso valore quindi vediamo qualche esempio sempre partendo dai nostri esempi più basilari che sono le cariche puntiformi e il campo uniforme le cariche puntiformi sto disegnando di nuovo i miei di campo quindi questi sono i miei di campo elettrico quali sono i punti dello spazio in cui il potenziale è costante ricordiamoci la formula del potenziale generata una carica puntiforme vediamo che a stessa distanza dalla carica si avrà lo stesso valore di potenziale e quindi tutti i punti che stanno a uguale distanza dal centro cioè ovvero dove il centro è inteso come il punto che si trova la carica hanno lo stesso potenziale quindi qui magari avranno un certo potenziale v1 qui avranno un potenziale io so che diminuisce quindi magari qui avranno un potenziale v2 minore di v1 eccetera in queste qui che sono linee naturalmente tratteggiate perché le disegnate nel piano uno dovrebbe immaginare nello spazio quindi in realtà si tratta di sfera di superfici sferiche nello spazio perché sono tutti i punti di una superficie sferica tutti i punti di una superficie sferica stanno alla stessa distanza dal punto in cui io ho preso la carica che diventa il centro di questa sfera e quindi queste superfici sferiche sono superfici più potenziali per il campo generato da una carica pontiforme o anche da una sfera piena o una sfera cava anche cariche uniformemente perché sappiamo che all'esterno il campo è lo stesso che avremmo con una carica pontiforme e stessa cosa abbiamo con una carica negativa però questa volta superfici più interne avranno un potenziale minore mentre qui il potenziale minore si ha andando verso l'esterno e l'altro esempio è appunto il campo uniforme come al solito in cui abbiamo un campo che è fatto così e il potenziale era y semplicemente quindi aumentava con y quindi le superfici che potenziali quali sono? sono delle tutte le superfici che hanno stessa y quindi in realtà naturalmente di nuovo lo disegnano come delle linee ma uno potrebbe immaginarle come cioè sono in effetti dei piani orizzontali alle varie altezze y y1 y2 y3 y4 eccetera e e alle varie altezze appunto tutti i punti di questi piani hanno lo stesso potenziale e come vedete quindi se io osservo il campo elettrico vedo che mi dà su direzione la massima diminuzione direzione massima diminuzione del potenziale mentre se mi muovo perpendicolarmente il campo elettrico rimango in punti a potenziale costante come avevamo osservato cioè delta v uguale 0 e stessa cosa succede qui ancora cosa vuol dire perpendicolarmente vuol dire che mi muovo tangenzialmente a questa sfera muoversi tangenzialmente a questa sfera vuol dire che se lo spostamento è infinitesimale mi sto muovendo su questa sfera e immaginate come analogia se andate in giardino cercate un palo e spostarvi sul terreno vicino a quel palo significa spostarvi in direzione tangenziale e sapete che si tratta di una curva perché sapete che vi trovate sulla terra ma diciamo in punti molto vicini se consideriamo una superficie molto piccola possiamo approssimare molto bene con una superficie piana e quindi si ha una situazione simile a quella che avremmo qui dove le superfici più potenziali sono effettivamente piani quindi queste superfici più potenziali quindi vedete sono appunto strettamente legate a quello che avevo detto prima e possiamo rivederlo ancora una volta dal al contrario se volete un altro punto di vista supponete avere un piano che sia una superficie equipotenziale e supponete di fare uno spostamento lungo questo piano da un punto A a un punto B ma io so che lungo questo spostamento qualunque questo sia io dovrò avere delta V uguale a 0 se questa è una superficie equipotenziale e questo significa che E per delta R è uguale a 0 cioè E è perpendicolare delta R per ogni delta R sulla superficie equipotenziale ma cosa significa che è un vettore perpendicolare delta R se per ogni delta R noi sappiamo abbiamo appena studiato visto anche in geometria più idea che se noi abbiamo una retta perpendicolare a una retta di un piano non è detto che sia perpendicolare al piano ma se è perpendicolare a 2 o ancora meglio a tutte le rette del piano allora è obbligatorio che sia perpendicolare al piano e quindi siccome E è perpendicolare a qualsiasi delta R a qualsiasi segmento che giace sulla superficie equipotenziale che qui è rappresentato come un piano allora deve essere sicuramente perpendicolare al piano stesso quindi ritroviamo quello che avevamo già intuito e cioè che E è sempre perpendicolare alle superfici equipotenziali alle superfici equipotenziali e quindi le linee di campo che sono tangenti a E sono ortogonali alle superfici equipotenziali alle superfici equipotenziali alle superfici equipotenziali e quindi e quindi questo qui è diciamo la conclusione qui siamo arrivati e una cosa che possiamo ancora osservare è che questo disegno altrimenti ho preso un piano ho detto questa è una superficie equipotenziale e cosa succederebbe se invece la superficie equipotenziale non fosse un piano ma fosse una superficie curva voi potete immaginare qual è la soluzione ormai posso comunque prendere un pezzettino di superficie sufficientemente piccolo da poterlo considerare piano e e siccome so che il campo elettrico sarà sicuramente perpendicolare a questo pezzettino beh so che la situazione sarà questa e questo discorso lo posso ripetere per ogni piccola superficetta che io vado a considerare e e quindi in definitiva posso dire che il campo elettrico è perpendicolare alla superficie equipotenziale in ogni suo punto quindi se ho una superficie piana bene è perpendicolare al piano ma se la superficie equipotenziale non è piana il vettore campo è comunque in ogni punto perpendicolare alla superficie in quel punto bisognerebbe più precisamente dire che è perpendicolare al piano tangente in quel punto però l'idea è questa quindi se vedete qui in questo disegno avete già disegnate alcune linee equipotenziali e dico linee perché nel piano diventano linee naturalmente se fossimo nello spazio queste linee sarebbero superfici quindi queste linee sono linee che sulle quali il potenziale è costante infatti infatti siamo andati a controllare queste sono proprio in ogni punto perpendicolari al livello di campo abbiamo detto più o meno tutto quello che volevo dire l'unica cosa che volevo ancora farvi notare è un'analogia di questi discorsi con qualcosa che avete già visto la prima analogia che volevo proporvi è con le linee isoterme se ritrovo la foto che mi ero preso ok quindi guardate questa qui è una cartina degli Stati Uniti se vedete ci sono varie aree colorate diversamente in particolare sono delle linee queste linee corrispondono a linee in cui la temperatura è costante e vedete che queste qui per esempio sono gradi Fahrenheit ho trovato una bella immagine con i gradi Celsius magari potete cercarla a voi in queste linee se vedete questo corrisponde a 90 gradi Fahrenheit 85 80 eccetera e sono linee isoterme che corrispondono alle linee più potenziali se volete quindi linee a cui la temperatura è la stessa naturalmente in queste regioni intermedie sarà una regione in cui siamo tra 90 e 85 qui siamo tra 85 e 80 e così via magari c'è potremmo fare le linee intermedie naturalmente di nuovo le linee sono infinite perché sono infiniti i numeri reali quindi tra 85 e 90 ci sono infinite linee quindi potremmo trovare magari la linea del 86 la linea del 84 del 85 e così via quindi di nuovo analogamente se noi volessimo spostarci nella direzione di più rapida diminuzione di temperatura e dovrei spostarmi in ogni punto perpendicolarmente alla linea isoterma in quel punto e seconda analogia è invece con le cosiddette isoipse o linee di livello che magari se qualcuno di voi va a camminare in montagna ha già visto o anche insomma ha già visto per altri motivi perché sono cose abbastanza comuni credo le linee di livello sono appunto linee che in una cartina vi dicono quanto è alto vi danno l'idea di quanto è l'altitudine quindi per esempio voi in una cartina vedete una figura di questo genere che significa appunto che questa linea corrisponde a un'altitudine di 20 metri questa è di 30 questa è di 40 e così via e in tre dimensioni corrisponderebbe a queste 20, 30, 40 quindi naturalmente anche in questo caso dovete avere una presentazione di questo genere se voi volete di nuovo muovervi in modo da avere la massima variazione di altitudine cioè la linea di massima pendenza se volete è data da una linea perpendicolare a queste linee di livello e sarebbe l'analogo del nostro campo elettrico come il campo elettrico ci dice la direzione verso di massima diminuzione del potenziale in questo caso questa freccetta mi direbbe la direzione verso di massima diminuzione della quota quindi mi direbbe se volete l'analogo del campo elettrico se volete mi direbbe in che direzione verso muovermi se voglio scendere più rapidamente possibile in maniera più lungo la discesa più ripida possibile quindi quando magari analizzere farò analizzare qualche grafico in qualche esercizio pensate a questa cosa quindi se vedete non so delle linee di livello fatte così che rappresentano diversi potenziali non so magari potenziale 10 volt 20 volt 30 volt naturalmente perpendicolarmente ciascuno di queste linee uno può individuare il vettore campo elettrico che dice che direzione verso muoverti per andare più rapidamente possibile verso la diminuzione del potenziale l'ultima cosa che possiamo dire ancora è questa riguarda quanto sono vicine queste linee equipotenziali o curve o scusate superficie equipotenziali che naturalmente apprendiamo come delle curve immaginate immaginate se fossero delle appunto come dicevo delle linee di livello montagnoso diciamo così delle linee di quota se uno vi dicesse se in questa zona la discesa o salita secondo insomma di come uno la guarda è più o meno ripida che in questa voi cosa rispondereste se ci avete pensato un attimo penso che rispondereste che qui è più ripida è semplicemente perché qui vedete in meno uno spostamento minore incontrate insomma la stessa variazione di quota che invece qui per esempio incontrate uno spostamento molto maggiore quindi questa cosa qui naturalmente è più facile forse vedere se le linee sono dritte quindi se voi avete una cosa del genere avete una varia e questi sono per esempio supponiamo potenziali potrebbero essere potenziali potrebbero essere quote se volete pensarla così però se fossero potenziali noi siamo interessati al campo elettrico abbiamo il campo elettrico naturalmente diretto così e se abbiamo una cosa simile ma vedete abbiamo una diminuzione più meno repentina del potenziale cosa possiamo dire sul campo elettrico in questo caso sarà più forte qui o sarà più forte qui pensateci un attimo e in questo caso se noi indichiamo questo con y e immaginiamo che si tratta di un campo uniforme abbiamo che la variazione del potenziale è meno e per delta y quindi e sarà meno delta v su delta y in questo vedete vi dice proprio la variazione del potenziale rispetto in rapporto a una variazione su y quindi se la variazione di di potenziale diciamo avviene rapidamente significa che il campo elettrico è più grande perché delta v fratto delta y sarà più grande se volete la parità di delta y si ha vedete qui parità di spostamento su y si ha una maggiore variazione delta v in questo caso che non in questo e quindi dove c'è una maggiore variazione delta v significa che c'è stato che c'è un maggiore campo elettrico se siamo a parità di delta y e quindi le linee di campo più ravvicinate vi indicano un campo elettrico che è più intenso le linee di campo meno ravvicinate vi indicano un campo elettrico meno intenso e questo potreste pensarlo come quando avete le linee di livello più vicine o più lontane non sono più lontane vuol dire che la pendenza è minore e quando sono più vicine vuol dire che la pendenza è maggiore quindi quando sono lontane c'è una variazione maggiore e il campo elettrico in un certo senso vi dice appunto quanto rapida è questa variazione di potenziale e e quindi questo è un altro aspetto diciamo che possiamo dedurre se noi osserviamo un sistema un grafico delle linee di campo quindi mi pare di aver detto più o meno tutto quello che volevo dire vi lascerò naturalmente qualche altro esempio da studiare per compito e spero che questo secondo video sia stato più interessante forse l'altro era un po' più formale un po' più teorico perché sono entrambi necessari quell'altro sulla circuitazione introduceva alcuni aspetti diciamo teoricamente importanti che poi dovremmo estenderemo anche al campo magnetico e quelle due proprietà circuitazione e flusso sono due proprietà fondamentali che è tratto quelle due equazioni che io ho scritto anche se non l'ho detto il teorema di Gauss e la circuitazione che è uguale a zero sono due delle cosiddette equazioni in Maxwell che sono le quattro equazioni basilari dell'elettromagnetismo in questa lezione qui abbiamo parlato un po' un po' di più un po' più approfonditamente della relazione fra campo elettrico e potenziale introdotto alle superfici più potenziali e fatto un po' di esempio di analogie per cercare di comprendere meglio questo aspetto quindi chiudo qua e ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti